Ancora un episodio di Malamovide registrato nel fine settimana nel centro storico di Palermo. La zona interessata, come già accaduto circa un mese e mezzo fa, è quella di Via dei Chievettieri nel quartiere Vuciria, dove intorno alle 4 di notte, tra sabato e domenica, si è scatenata una maxirrissa, una trentina e i giovani coinvolti. Necessario l'intervento di diverse pattuglie della polizia per riportare la calma e identificare alcune persone, mentre la maggior parte dei giovani coinvolti si dava alla fuga. I poliziotti sono intervenuti su diverse segnalazioni di cittadini allarmati dalla scazzottata. Nel corso del weekend sono state inoltre riscontrate irregolarità in alcuni locali, multati per occupazione illecita di suolo pubblico, intrattenimento musicale con proiezioni sonore all'esterno del locale, con esibizione di DJ, con cassa amplificata e mixer. Complessivamente sono state identificate 132 persone.